Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro Gelovese e da grande vorrei fare l'agente immobiliare. Sono già vent'anni che lo faccio. Io mi chiamo Andrea Monteverdi, lavoro in Toscano da due anni. Ciao a tutti, io sono Attilio Beni, lavoro in Toscano da 16 anni. Ciao, sono Enrico e sono in Toscano da 13 anni. Ciao, mi chiamo Andy e lavoro in Toscano da 10 giorni. Un bravo agente immobiliare deve essere paziente, volenteroso, determinato. Siamo un po' degli investigatori, nel senso che siamo ricercatori di appartamenti. Andiamo proprio in giro a ricercarci l'affare. Siamo un po' psicologi, siamo un po' commerciali, nel senso che giustamente dobbiamo fare le trattative. Dobbiamo cercare di capire quando ha un cliente interessa una determinata cosa. Per diventare, diciamo, dei professionisti dobbiamo iniziare a lavorare per la strada. Facendo pubbliche relazioni comporta sicuramente delle difficoltà iniziali che, se superate, possono decisamente portare a traguardi importanti. Incontrando un mio amico con il quale giocavamo insieme a pallone, ci siamo incontrati per caso, mi ha proposto di fare un colloquio in questa azienda e accettai. Ho iniziato questo lavoro per caso e, appena cominciato, mi sono subito innamorato sia del gruppo, dell'attività e delle prospettive che questo lavoro mi dava. Ho fatto il colloquio con Genovese, mi ha parlato un po' della Toscano, mi è piaciuto come posto e ambiente e ho deciso di provare una nuova esperienza. Ho cominciato anche io, come tanti altri miei colleghi, in maniera del tutto casuale. Ho fatto tanti lavori nella mia vita, il cameriere, l'operaio, l'impiegato e mi sono sempre trovato in difficoltà perché in nessuna di queste professioni mi sentivo valorizzato. Prima di fare questo lavoro ho fatto per sette anni l'elettricista e quindi sono partito praticamente con zero esperienza, proprio zero esperienza assoluta. Sono diventato consulente e poi direttore di filiale. Da Roma mi sono trasferito a Brescia e ho costituito la mia prima agenzia immobiliare. Sono state aperte ad oggi altre dieci agenzie immobiliari, delle quali io sono il responsabile. Oggi sono socio dei più punti affiliati. Sto imparando, continuo ogni giorno a darmi da fare per migliorare. Insomma, sono convinto che alla fine di questo percorso, quando saremo alla fine, tirate le somme e mi troverò molto contento. La nostra agenzia negli ultimi 17 anni come premio fatturato arrivata per ben 14 volte sul podio nazionale. Questo lavoro mi ha cambiato la vita, diciamo, dal punto di vista economico, professionale ma soprattutto dal punto di vista personale, nel senso che sono riuscito a superare qualche difficoltà nell'approcciarmi con la persona. E negli ultimi due anni siamo arrivati consecutivamente primi a livello nazionale come fatturato. La cosa che sicuramente mi ha colpito di più di questa azienda è la possibilità di crescere. Mettiti in gioco, credi in te stesso. Ogni giorno è come se fosse sempre una nuova sfida. L'importante è metterci sempre l'impegno. La Toscano poi ti metterà a disposizione tutto quello che ti servirà per poterti realizzare. Una superavente alle vendite che mi ha dato più soddisfazione è stata un trilocale completamente ristrutturato al quarto piano senza ascensore. e mentre io facevo gli appuntamenti per questo appartamento in cui credevo fortemente un agente competitor mi ha incontrato per strada e mi ha detto guarda che a quel prezzo non lo venderai mai. Il mese dopo abbiamo venduto l'appartamento a quel prezzo. Purtroppo il competitor non l'ho più trovato per dire che l'avevo venduta. Però sicuramente a livello personale è stato molto appagante.